Benvenuto. In questa meditazione ti guiderò a contattare e a sviluppare le qualità del maschile sacro attraverso una serie di indicazioni che ti porteranno gradualmente al tuo interno così da poter contattare l'essenza del maschile sacro. Prendi per piacere una posizione seduta e rendila stabile così da poterla sostenere per circa venti minuti. Prenditi il tempo per renderla ancora più stabile e poi appoggia le mani sulle ginocchia, sulle cosce. In questi casi se sedere sulla coperta, su un tappetino è troppo intenso, scegli di sedere su una sedia così da avere i piedi a contatto con il pavimento, le ginocchia larghe come il bacino, possibilmente avendo le ginocchia leggermente più basse delle anche. Se hai bisogno di fare questo puoi fermare un attimo il video e sistemarti, puoi farlo ripartire. In qualsiasi situazione tu ti sia seduto, tieni le mani sulle cosce, sulle ginocchia e ora chiudi per piacere gli occhi. allunga dolcemente la colonna vertebrale verso l'alto e apri un po' le spalle. Fai una profonda ispirazione, una lunga e completa ispirazione. rilassa, ammorbidisci il corpo, torna con il respiro naturale e respira consapevolmente più volte. Entra adesso nella presenza del qui ed ora. Portati ora le mani sul ventre, una sopra l'altra.